I carabinieri bussano alla porta ad attenderli un molosso, razza corso. Ci troviamo a fuorio di Ischia. I carabinieri della locale stazione decidono di controllare una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Si tratta di un 37enne arrestato lo scorso 23 novembre per detenzione di droga e affini di spaccio. I carabinieri bussano alla porta dell'uomo ma nessuno risponde. La routine pomeridiana sta per subire una brusca inversione di marcia. e i minuti passano, i carabinieri continuano a bussare fino a quando la porta si apre. Dall'uscio però non si intravede il 37enne che è ancora all'interno insieme a una donna nonostante l'obbligo di non comunicare con nessuno come da prescrizione emessa dall'autorità giudiziaria ma un molossoide. Il cane, razza corso, si avventa contro uno dei carabinieri. Solo il fatto, la bravura dei militari o anche il carattere mansueto dell'animale nonostante la pericolosa situazione che si è creata evita che qualcuno si faccia male. Il corso, detenuto legittimamente in buone condizioni, è stato messo in sicurezza a cotida poter perquisire l'abitazione dove viene rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto da 22 centimetri. Per la coppia una denuncia a piede libero per resistenza pubblico ufficiale. L'uomo dovrà rispondere anche di porto di armi o oggetti atti ad offendere.